Oggi è successa una cosa terribile perché mentre stavo giocando con i miei amici a Fortnite, Best ha iniziato a sentirsi veramente malissimo e quello che è successo poco dopo è stato assurdo. Quindi signori, le regole sono abbastanza semplici. Ogni kill che andiamo a fare bisogna fare una penitenza, ragazzi, dei carichi. È carino questo video, non potete farlo con qualcun altro? No, io lo voglio fare con voi, ragazzi, perché voi, dato che siete miei amici, vi voglio tanto bene, voglio farvi soffrire, ok? Quindi mi sembrava giusto farlo. Però aspetta, prima di andare avanti, signor Best, devo dire una cosetta al mio amichetto Lollo, che gli devo dire una cosa un po' privata, ok? Arriviamo subito. Allora, signor Lollo, ascoltami un attimo. Allora, dato che Best mi sta super sul c***o, oggi dobbiamo fargli fare le penitenze tutte quante a lui, quindi dobbiamo fare più kill possibili e gli facciamo fare le penitenze più assurde e più estreme. Aspetta, una kill, let's go! Signor Best, abbiamo appena fatto una kill, quindi la prima... E quindi penitenza per Lollo, via! No, 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 perché per Lollo? Decido io chi fa la penitenza, ovviamente, partirei tu e direi, hai vicino una bottiglietta d'acqua? Eh, sì, una bottiglia. Ok, non serve che te la butti addosso, prendila e datti un colpo forte in testa, ma veramente forte, eh? Ma perché, Star? Ma è mai demenziale? Ma sì, ma fa ride, fa ride, dai, così tanto per ride. Dunque, signori, voi che state guardate il video, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto supportatemi con il codice Conti. Grazie, perché in questo video le vedrete delle belle, le vedrete delle belle, c'è un'altra persona qua. Ho fatto un'altra kill, Conti. Eh, la madonna, ho capito, ma caldina, devo ancora buttare le mie robe in testa. Allora, aspetta! Allora, dopo aver fatto la kill, devi scegliere tu a chi far fare la penitenza, ovviamente. Ah, e Best, a chi la faccio fare? A Conti? Eh, io la farei fare a Conti, dato che l'altro l'ho fatta aiuto con me. No, dai, dato che ho fatto un'altra kill, fanne due, Best, direttamente. Ma porca puttana! Ma ce la vedi con me, regà? Siamo un po' cattivi, però, il fatto che ce la stiamo prendendo solo culo. Però sì, beh, stai, ma che te frega, ti vogliamo bene, vogliamo farti fare le penitenze. Però mo' la devi scegliere tu, lol, che gli vogliamo far fare? Allora, eh, deve stare fermo 5 minuti su Fortnite, no, forse è troppo. Ma poverino, ma 5 minuti viene un po' troppo. Io sai cosa gli farei fare, dato che in questi giorni si sta allenando, no? Ma tipo 5 piegamenti sporadici? Ma che 5? 10 almeno? 5 piegamenti sporadici, capito? Che carino che è. Vabbè, intanto posso lanciarmi la bottiglia in testa, posso? Vai, 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 intanto si, si, tranquillo. C'è un trauma cranico, ragazzi, è così che si prende. Sto video sarà uno dei video più divertenti di tutto quanto il canale, perché già vi dico che best oggi si farà tanto male, perché io te lo dico. Ma tua mamma è divertente. Mi sono messo d'accordo con Lollo, oggi ti farei male solo tu. Ah, che carino, gigantesco amico, davvero gigante. Prova una kill, che faccio, no? Eh, è una kill, ah, ok, a questo punto puoi scegliere a chi fa fare la penitenza, dai. Ok, conti, dai, depitati la fine. Non credo che lo posso fare, una roba di genere. Non ce l'ho, perché? No, non ce l'ho, cioè, è proprio per quello. Una roba più fattibile, magari, sarebbe lei. No, ma scherzo, non ce l'ho, un kill, bro, stavo pregando, non c'ho niente. Capito? Quanti botte ci stanno qua? C'è il boss, conti, lo fai dare. Ammazziamo il boss, ammazziamo il boss, il boss, let's go. Comunque, beh, se non ti vedo fare i piegamenti o sbaglio? Ah, che, ancora? Ma sei sei? Vabbè, dammi un attimo, dammi un attimo. Come li faccio i piegamenti? Come sono a registro? Ti do due opzioni, o fai un balletto di Fortnite, quindi ti alzi dalla sedia e inizi a fare un balletto stupidissimo, oppure di fare i piegamenti, scegli tu. Vabbè, però, non mi hai scelto, dammi un attimo. Però mi sembra molto esagerato, perché qui mi potrei fare molto male. Godo, Godo. Ah! Ah! Oh. Sei sgonfiata. Cosa sei sgonfiata? A palla a testa. Allora, raga, non ve lo voglio dire, ma qua davanti ci sta gente, no, lo devo fare la kill. Chi l'ha fatta? Già fatta. Ma sei troppo fuori. Eh, vabbè, raga. Allora, se questa volta la tela penitenza a me vi ammazzo io, giù. Prima ammazziamo tutti quanti, e mamma mia, besta, quante penitenze devi fare oggi. Oggi, secondo me, ti fai veramente tanto male, ma non mi interessa. Aspetta, dai, c'è stato uno qua sotto. Meno male che hai un botto. Ne ho già fatto un'altra, Conti, mamma mia. Troppo forte. Aspetta, fammela fare a me questa. Fammela fare a me. Aspetta. 24. Let's go. Allora, facciamo una cosa. Dato che io e Lollopolo abbiamo fatto tantissimi kill e best zero perché è una tipa. Lollopolo, che c***o vuoi che mi rinchiudi qua dentro? Stai zitto, pensi, ascoltami, dato che abbiamo fatto tante kill, io voglio risparmiarti un pochettino. Invece di farti fare tre penitenze, te ne faccio fare solo una, ma brutta. Aspetta, ce ne sta un altro. Mamma mia. Io ho un team intero, porca puttana. Non ci sono tutti su linee. Possiamo fare dopo le penitenze, per favore. Sì, sì, sì. Prima pensiamo a vivere, poi vediamo. Ok, Conti, aspetta. Dai, ce la fai, Lollopolo. Conti sono fortissimi. Il c***o ce la faccio. Ah, sono fortissimi. Ma dove siete andati? No, no. Perché non state con me? Sì, filati, corri via. Andiamo via, andiamo via, best. Proviamo. Ma perché non stavate con me, ragazzi? È perché tu sei andato a pusciare da solo, non dovevi pusciare. Ma stavamo già lì. Zitto, zitto che sono troppo forti. Ma porco, due, sono fortissimi. Loro madre che fa i bocchini. Se moriamo, Lollo conferma, c'è la penitenza ancora più brutta. Dai, 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 però non è possibile. Esatto, sì, soprattutto perché non ci ha aiutato per nulla. È morto. No, no, ragazzi. No, frate, mi sto incassando. Mi sto incassando. Ti giuro, mi sto incassando. Cioè, sono delle bestie, non so cosa farci. Adesso ti faccio una penitenza orribile. Te non hai neanche idea, non hai neanche idea. Mamma mia, mamma mia, non lo facciamo più uscire di casa. Sì, vabbè, fatemi andare direttamente nella tomba e via. Vabbè, addirittura, a mo' te pare? Addirittura mi sembra un po' troppo così, eh. Niente, fa cagare, bro. Niente, nella tomba ci vado io. Allora, signor best, dato che hai fatto una bruttissima fine e hai perso tutto, non hai fatto manco una crisi, è stata una pippa al sugo. Io e Lollo abbiamo pensato a una penitenza che in realtà non è neanche troppo grave. Cos'è un cibo che ti fa cagare? Cioè, c'è un cibo che tu lo vedi e dici, questo mi fa schifo da mangiare? I cibi che mi fanno schifo ce ne sono parecchi, ma in realtà la maggior parte di questi è perché parlando di ci sono allergico, non è perché... Vabbè, ma l'allergia che fa è un po' di prurito, che cazzo da te frega? Allora, tipo... No, l'allergia può anche farti peggio. Cos'è che c'hai in casa, tipo adesso? Eh, c'ho il burro d'arachidi, sono allergico alle arachidi. Sei allergico al burro d'arachidi, davvero? Sì, è meglio di... No, t'assicuro è molto meglio di... Eh, ho capito, no, Cotti. Però aspetta, è una penitenza. No, veramente, se sei allergico no? Ma sì, ragazzi, ma è una penitenza, nel senso è ovvio, cioè... Eh, ma se sei allergico non puoi mangiarlo. No, no, ma t'assicuro è molto meglio di nuovo. Sì, ok che sei allergico, va bene, ma nel caso diventano tre bolle, ma nel senso è per la challenge, è per il video, è normale, cioè... Eh, ho capito, ma non posso... Cioè, non mi sembra a caso. Ma che vuoi che ti succeda? Non ti succeda... Ragazzi, tranquilli che tanto adesso lo fa, si sta un attimo preparando. Sta facendo finte, eh, non vi preoccupate che adesso lo mangia... C'è gente qua davanti? Fammo così, aspetta, fammo così. Io vado un attimo giù a prenderlo. Ok. Cercatemi di non farmi ammazzarli, per esempio. No, no, vai a prenderlo, vai a prenderlo, tranquillo. Ma Lollo, ma tu sei sicuro che se lo mangi allergico succede qualcosa di grave? No, no, conti, veramente, a parte gli scherzi, cioè... Si sente male, cioè va a finire male questa roba. Ma sei serio? Ma scuola, a parte che l'allergia ti viene... Cioè, se sei tipo intollerante a tipo un cibo, ti vengono un po' di bollicine, ma di base non è che sei male. Ma una cosa è essere intollerante, una cosa è essere allergico. Sono due cose diverse, si sente male, cioè lo perdiamo oggi, lo stira. Pure io sono allergico alle donne, però se ci sto insieme non succede comunque nulla, eh. Cioè, sto comunque bene. Non è la stessa cosa. Vabbè, comunque c'è un povero. Penso che tipo ce lo mangia e si sente super male, cioè... Eh, ma potrebbe succedere, te lo dico. No, non succede, non succede. Comunque, signori, se venivassi in 71 ho già due chili, quindi in realtà dopo questa peridenza, signor Best... Raga, l'ho preso. Vai. L'ho preso, ce l'ho qui, purtroppo. E non mi sembra il caso, comunque. Cioè, mi fa abbastanza paura. Ma bro, ma un cucchiaino, ma pochissimo, non è che devi mangiarne tanto. Poco, poco. Vabbè, facciamo una briciola proprio, però. Ma sì, ma una briciola. Ma a te ti fa schifo, però, in tutto questo? A me, al di là che sono allergico, mi fa proprio cagare. Perfetto. È proprio il cibo che sto cercando. Allora, Best, fai un bel rischio. Bro, fa proprio cagare. No, l'ho già preso. L'hai già mangiato? Non era tanto una penitenza, cioè, nel senso, era giusto così, per farti un gioco qualcosa di schifoso. Comunque, possiamo andare avanti. Ti dico già che io ho già fatto due chili, quindi in teoria dovrei farti fare un'altra penitenza. Ma te la faccio fare tra un po'. Oh. Dai, sta. Va bene. No, è forse, è forse. Cosa è forte? Ma sono le noccioline, non ti fanno niente. No, Conti, vieni qua. Devi correre. Arrivo, arrivo. Velocissimo. Arrivo. Guarda che c'è sta rinna dal culo. No, ma guarda che porca questa. Ma non è vero, dai. Sei infilato una cassa su per il culo. Sei ficato una cassa nel culo, questo. Non ci posso credere. Beh, se dato che ho fatto due kill, io direi un altro piccolissimo assaggio lo potresti fare. Ma piccolissimo, eh. Non ci penso proprio a fare un altro, scusatemi. Allora, però, devi dire uno schiaffo in faccia per forza. Cioè, qualche penitenza devi fare per forza. Ok, uno schiaffo in faccia, hai detto. Vai, 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 vai. Ma perché ti sento la voce stranissima? 3, 2, 1. No, schiaffo in faccia, ho dato. Ucciso! Mamma mia! No, beh, se te lo dico oggi ti sentirei male, perché ho fatto la voce. Ma stai scherzando o sei serio? Non capisco. Non è che devo scherzare, scusami. Per forza. Ma tu sei allergico? Cioè, sei proprio allergico, allergico, ma che stai male, male. Allergico vuol dire allergico, non vuol dire mezzo allergico. Ti vengono giusto delle bolle. Cosa fa che ti succeda, nel senso? Ma giusto delle bolle, ma non il capello. Cioè, non lo so. Ma sì, bro, ma è per il video. Ma non ti preoccupare. Aspetta, un'altra chi... Ma sì, ma non sarà mai qualcosa di grave, dai, ti pare. Lollo, da quello che so, anche Lollo è allergico alle noccelline. No, best, ascolti un attimo. Off video, ma stai male davvero? Mi sento un po' la gola... Cosa? È un po' tipo... Ma cosa, Dio? Com'è successo a me, Conti? Ti ricordi che poi mi hanno portato all'ospedale e mi hanno dovuto fare tutte le punture? No, best, best. Ascolta un attimo. Oddio, mi sento in colpa, Lollo. Cioè, nel senso, ma quant'è che stai male? Cioè, senti giusto un pizzico alla go... Aspetta, arriviamo subito, devo parlare con Lollo. Arrivo, arrivo, arrivo. Lollo, sei scemo. Sei scemo, io lo sapevo che andava a finire così. Ma tu sei sicuro che... Cioè, nel senso, secondo me, mo' sta veramente male. Perché se è allergico... Si gonfia tutta la gola. Esatto, c'è le stesse cose che avevo io. Mi sento una mer... Lollo, mi sento una mer... Eh, no, fai bene. Ma come fai bene? Ma pure tu gli hai detto di farlo. Ma si sente male. Ma no, io ho detto di no, ma che sei scemo. No, regà, mi sento... Vi giuro, mi sento veramente uno schifo, veramente. E mo' che faccio? Non gli posso fare altre venitenze, nel senso... Eh... Gli ho già fatto troppo. Perché il suo personaggio è fermo con... Come... Aspetta, smutiamoci. Beste? Beste? Oh! No, brava, Fra mi sta... No, Fra, brava mi sta a fa preoccupare, te lo dico. Oh! Ma sei vivo! Fra, ma lasciami la sposta. Non posso parlare tanto, mi fa male. Comunque, signore, allora, la situazione è un po' grave. Perché è un po' critica. Perché Beste non si sta sentendo tanto bene. Stai pensando a tossire. Questo video ho paura che possa finire male. Quindi, per il momento, non faccio fare più le penitenze a Beste. Ma, da adesso, ogni kill che vado a fare, le penitenze le andranno a fare. Lollo, ovviamente... No, 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 no. Non è che qua le scuse che stiamo male, allora le penitenze le faccio io. Ma comunque, Beste. L'hai sentito che non può neanche parlare? Sta tossendo da mezz'ora questo uomo, questo pochino. Ma che è il problema? Scusa, hai un po' di acqua in testa ogni tanto. Così si rinfresca, magari. Sai che se me Beste, se bevi, stai meglio. Perché, eh, forse ti è rimasto tipo tutto la... Non lo so, prova un attimo a bere. Io c'ho paura, c'ho paura che si sente male, ragazzi. Lasciate like per il povero Beste che probabilmente morirà dopo sto... Cioè, morirà addirittura. Vabbè, no, non esagerà, dai, ti pare che mora. No, assolutamente no. Però comunque, signori, siamo rimasti in 33. Abbiamo già un sacco di... Raga, 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 mi sento un po'... Come un po'? Eh, potrei... Un po' incontinente. Devi andare a cagare? Dovrei. Eh, vai, vai al bagno, vai al bagno. No, ma ci vado dopo, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Raga, comunque questa arma qui è assurda. Cioè, io lancio la... Quale arma, bella? Quale? Oh! La roccia? Quale arma? Ma guarda che sta fermo sul cucuzzolo della montagna. Ma sì, ma ci sta piano per culo. Beste! Oh! Oh! Beste, ma si è questo rumore, eh? No, no, Beste. Potrebbe essere se gli ha tappato la gola e è rimasto senza fiato e è svenuto. No, 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 ma non prendo... Porco. Non dire se è stronzata, ma ti pare che... Eh, no, potrebbe essere successo. Ma no, ma cosa vuoi che gli sia successo? Non ti preoccupare. Beh, stai bene? Beste, secondo me non sta così bene, Conti. No, no, ragazzi, lo chiamo al volo su WhatsApp, lo chiamo al volo su WhatsApp. C'ho paura che sta veramente male. Sta veramente male, raga, secondo me. Stupido, raga, doveva essere uno scherzo. Invece guarda che... Beste, rispondi! No, raga, sta male. Oddio! Beste! Oddio! Oh! Mi sa che sono svenuto. Ma come mi sa che sei? No, no, tranquillo. No, no, Beste. Tutto bene. Fai una cosa. Esci dal video, tranquillo. Cioè, nel senso, vai a riposarti. Mi sto preoccupata, vero? Una terra, una terra. Beste, mangia di altro... No, sto scherzando. Ah, ti affari in cula. Comunque, signor Beste, non mettiamo la situazione drammatica, perché qua ci sta gente, dobbiamo fare le kill, dobbiamo vincere la partita per le persone che ci stanno guardando da casa. Ok, ucciso. Let's go, altre kill. Abbiamo fatto tre kill, Conti. Mamma mia, facciamogli mangiare due cucchiai di burro da raghi. No, allora, raga, no, non sto scherzando, non le mangio più di... Dicevo un secondo di quella roba, ma... Ormai abbiamo preso gusto. Aspetta, 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 distrutto, distrutto, 144, 10, bianco. Mamma mia, mamma mia, allora adesso devi fare una penitenza orribile, te lo dico, eh, preparati. No, perché la kill l'ho fatta io. Ok, altra gente, altra gente. Beh, se tu rimani camperato, non fare nulla, tranquillo, rilassati. Oh, ne ho fatto un'altra. Conti, mi sa che tocca a te fare la penitenza. Allora, Conti, direi che un bello schiaffetto te lo puoi pure tirare, eh. Ma basta, con questi schiaffetti. Urquini, amici. Me lo tiro, ragazzi. E fatto, mi sono tirato una pizza fortissimo. Comunque, adesso concentriamoci. Ok, stanno qua sotto. Quanta gente c'è? E' più di gente. Best, dobbiamo scendere. Vieni, vieni, vieni. No, Conti, mi ha mangiato. Fortissimi sono, fortissimi. Come sono forti. Orca trota. Sono anche tre. Orca trota. Siamo morti, lo sai, Best? Sei consapevole? Best? Best non risponde. Quanto è ammazzato uno? E' atterrato. No, aspetta, non sto capendo se lo sta facendo a posto o sta veramente male. Io nel dubbio scappo e me ne vado. Erca trota. Orca trota. Via, 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 via. Ma tua madre che mi ha ucciso. Ma ti pare che l'unico che rimane in vita è quello che sta morendo? Allora, diciamo che noi tre facciamo veramente cagare nelle pubbliche. Posso dire questa cosa a quest'altro che sta a morire con la tose, l'ollo e la pippa? Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, è sempre io. Vi ho portato in questa mappa uno v uno. Ci dovremo sfidare tutti quanti l'ollo party, ok? E ovviamente il vincitore non farà nessuna peritenza. E chi perderà purtroppo deve fare un'altra peritenza. Best purtroppo con un'altra peritenza. Non so se fargliela fare perché per me tra poco inizierà a stare sempre peggio. Io non me la farei fare, sinceramente. Ma che voce c'hai? Ma che cazzo c'ha? Ma che gli hai preso? No, no, lollo, lollo. Sto burro di arachidi era veramente forte. Fermi, signori, mamma mia, se lo mangio. Nemmeno mi vedi? Ma nemmeno mi vedi? Ma dove vai? Lo distruggo 104? Come... Pam! Mamma, signori, l'altra peritenza è il signor Lollo che deve star zitto per tutto il video. Così almeno non rompete io. Andiamo. Allora, Lollo, facciamo che puoi parlare perché sennò devo parlare da solo in questo video perché quest'altro già gli è mancato. Best, ma perché fai... Oh, via, super scazzo. No, sei ribloccato. Oh, Best, ma stai bene? A parte gli scherzi, cioè, stoppiamo un attimo il video. Ci sai o no? Non capi... No, Lollo, Lollo è fermo. Lollo, Best, Best. Porca puttana. No, porca puttana. No, 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 no. Facciamo una cosa, aspetta. No, 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 fermo, fermo, fermo. No, Lollo, non ha senso. L'ho killato. Stai zitto. Eh, no, ho vinto. Che te... Stai zitto. Lollo. Per una volta. È una cosa seria. Dobbiamo chiamare l'ambulanza. Io so dove abita. Abita in... No, no, io chiamo l'ambulanza, eh. Lo chiamo... Best, sto per chiamare l'ambulanza se mi senti, eh. Se è uno scherzo, dimmelo che sto chiamare l'ambulanza. Best. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Che è? Ha attaccato lo... No, dai, mi stava piando. Mi stava prendendo per il culo. Io lo sapevo. Lo sapevo che è una testa. Ma che c'entro io? No, no, no. Fermo, vieni qua. Vieni qua. Let's go. Altre kill it. Ragazzi, Best, è troppo scarso. Non ha senso. Allora. Allora, questo era proprio l'ultimo respiro. Allora, Best, ascoltami un attimo. Vuoi che chiamo tua madre? C'ho il numero, la chiamo. Gli dico che stai male perché... No, no. Ma mi stai piando per il culo. Non capisco. Best, adesso che siamo mutati... Io mi ricordo che a casa tua tu avevi detto che l'unica cosa a cui era allergico era la mozzarella. Ma il ruotalacchiti non è mozzarella, Best. Io mi ricordo tutto. Non si crede. Ma poi ci casca tutto. Cioè, posso pure fare l'attore di Hollywood a sto punto. Sì, ma casca qualsiasi cosa. Senti una cosa. Facciamo finta proprio che muori direttamente, che tipo ti vengono a prendere con l'ambulanza perché non dobbiamo farlo... Figata, figata. Mentre facciamo il 1v1, dai. Comunque, signori, Prima che Best ci lasci le penne che sta tipo malissimo, non capisco. Fate questo... Basta! Fate questo ult... Non farite, ragazzi. Non farite. Fate questo 1v1. Vediamo chi riuscirà a vincere questo ultimissimo anno. Mi raccomando, ragazzi, lo so che ve l'ho già detto, ma lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al canale, supportate il mio codice conti. Vediamo un attimo come se la giocheranno sperando che Best sia ancora vi... Sta facendo solo scar... Solo scar... No, Best, comunque tu mi stai... No, sta male veramente. No, no, Lollo, io non sto scherzando. Io ho veramente paura che si senta male, eh. Cioè, nel senso, lo stai sentendo, spero. Eh, ma io ti dico, preparate a chiamare l'ambulanza, perché qua la situazione mi sa che è grave. Ma tu sei serio che dobbiamo chiamare l'ambulanza? Cioè, sta veramente così male? Sta veramente così male, sì. Best, guardalo. Best, ma... Dobbiamo chiamare l'ambulanza? Non risponde. Mi giuro, non risponde. Mi sento un po' più caldo... Oh, Best... No, 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 è risenuto. Chiamala, chiamala. No, no, io lo chiamo. Basta, chiamo l'ambulanza, non frega niente. Oh! Io sono davanti. No, Best... Best, sta chiamando... Sta chiamando l'ambulanza davvero. La figura ti stai chiamando davvero, bro. No, 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 fidati, la sta chiamando davvero. Ma dai, Fra, ma non c'è... Non crederi. Non crederi. Eh no, guarda. Guarda la sua webcam. No, non è possibile. Ok. No, 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 Best, 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 chiamo... Beh, porca tro... Ebbene sì, questi due testa di c***o hanno fatto uno scherzo meno male perché mi sarei sentito veramente troppo in colpa, raga, non sto scherzando. Comunque, guardate nei negozi oggetti. Best, fortunatamente, vivo, non è morto. E ciao. Grazie.